Quando faccio il rap entro nella cassa armonica, un saluto a tutta quanta la regata storica, Vienna Wighterman, leggenda come Lino Banfi, faccio un saluto a tutta quanta la città di Amalfi, ciao Frataman! Ciao a tutti amici di Amalfi, sono Francisco Gabbani, sicuramente felici di essere a questa 66esima regata storica delle repubbliche marinare qua ad Amalfi e vi volevo tutti invitare questa sera a venire ad ascoltare me e tanti miei colleghi per il fantastico evento di radio schiss-kiss proprio qua ad Amalfi a godere del fantastico fascino e fascino dell'atmosfera di Amalfi stessa, ciao, vi aspettiamo, ciao! Allora, ciao a tutti, sono Giordana Anzi, ho l'onore di trovarmi qui ad Amalfi, come potete vedere e il mio invito è quello di venire qui questa sera per questo bellissimo evento che celebra la regata storica e per me è davvero un onore, quindi venite e celebriamolo insieme, un bacio! Ciao, sono Sissi e sono qui ad Amalfi, bellissima Amalfi, per la regata storica, per me è un onore di essere qui e spero vi divertiate molto a tutti, vi mando un bacio, ciao ciao! Ciao ragazzi, sono Rikhi, vi aspetto numerosissimi qui ad Amalfi, mi raccomando stasera non mancate un bacio grande! Ciao a tutti! Ciao a tutti, io sono Valentina Parisse e sono qui per farvi un piccolo grande invito! Vedete questa bellezza, questa meraviglia? Se non fosse abbastanza, ma vi assicuro che lo è, noi vi aspettiamo questa sera per la regata di Amalfi con un evento pazzesco di Radio Fiskiz! Ci sarò io, canterò io, ma canteranno tantissimi altri ospiti incredibili, quindi non avete scuse, non potete mancare, vi aspettiamo tutti quanti e Fiskiz a tutti! Eccomi qua, sono arrivato da Amalfi ragazzi, sono troppo felice, io sono Pippo Pelo e volevo dire che qui l'atmosfera è magica, ho fatto il viaggio in traghetto con gli artisti che stasera canteranno, ci esibiranno, suoneranno sul palco di Kiss Kiss Play Summer Live 2022, un eventone, c'è Francesco Cabani, ci sono i The Colors, c'è Clementino, c'è Salda Vinci, c'è Valentina Parisse, c'è Sissi, insomma ci sono veramente tantissimi amici, tantissimi artisti, quindi vi invito a raggiungerci qua, siamo io e Adriana che presentiamo, c'è tutta Radio Fiskiz, per cui direi che ne vale la pena, venite a fare un giro stasera in questa piazza stupenda che è la piazza del municipio di Amalfi, e che vuoi più della vita? Vi aspettiamo, grazie!